Menincita e batterica, questa è la diagnosi tempestiva che i medici del Sant'Elia hanno riscontrato un giovane nisseno 28enne trasportato febbricitante lunedì notte al pronto soccorso. Il giovane infatti da alcuni giorni soffriva di mal di testa, uno dei sintomi caratteristici della malattia, oltre alla febbre alta e al dolore o rigidità del collo, che ha così insospettito i medici che hanno immediatamente eseguito il prelievo a livello lombare. Altri sintomi possono essere la nausea, il vomito, forte fastidio agli stimoli luminosi, confusione e sonnolenza, convulsione e inappetenza. Diagnosi confermata dai risultati di laboratorio dell'analisi del liquore, che hanno così escluso la forma virale, cioè quella meno grave della meningite. L'equore, quello estratto a livello lombare, mandato per un ulteriore conferma anche al Policlinico di Palermo, che ha confermato che la causa della meningite che ha colpito il giovane nisseno è da ricondurre a uno streptococco o pneumonie. Il 28enne è stato dunque trasportato al reparto di malattie infettive ed è già sotto terapia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni da parte dei medici, che lo stanno tenendo sotto controllo. Si aspettano ora le 48 ore, come confermato dal primario facente funzioni del reparto di malattie infettive, Alfonso Averna, per stabilire se il giovane è definitivamente fuori pericolo. Come sempre in questi casi, i medici del pronto soccorso hanno adottato tutte le misure idonee per evitare il contagio di pazienti e di accompagnatori, che in quel momento si trovavano a Sant'Elia. Si tratterebbe del secondo caso di meningite batterica nel giro di un mese in Sicilia dopo il ricovero di una 22enne all'ospedale civico di Palermo. Il picco della meningite si registra maggiormente in coincidenza con i campi di stagione o con variazioni di temperature come quelle che si sono registrate in questi giorni.